I ragazzi del liceo Marconi di Pescara tornano nella loro sede storica. È stato completato il rientro previsto per l'anno scolastico 2022-2023, iniziato tre settimane fa. Sono 35 in tutte le classiche, hanno avuto ospitalità al Palafuxas, 10 del linguistico, rientrati tre settimane fa, 12 classi dell'indirizzo economico alla di Marzio Michetti, tornati in sede due settimane fa e 13 dell'indirizzo scienze umane che oggi hanno salutato il De Cecco. Non è un fatto qualunque, ma un successo raggiunto grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni, di dirigenti scolastici, di alunni che si sono organizzati per manifestare qui in Via Marino da Caramanico, sin da quando è stata annunciata l'inagibilità dello stabile e dei responsabili della provincia di Pescara, presidenti in primis con Antonio Zaffiri I e con Ottavio De Martini Spoi. In soli 13 mesi, come abbiamo già ampiamente detto, siamo riusciti a portare avanti questo progetto e a rientrare in una scuola sicura, bella e entusiasmante. Anche quest'aula, che adesso è in fase di allestimento, come si può dire, un'aula polifunzionale, anche questa ci mette di buon umore, perché chiaramente per creare il benessere emotivo nei ragazzi affinché loro possano dare di più e darci di più. E vicino all'albero di Natale, il pensiero del dirigente scolastico vale 29 classi distribuite tra Palazzo Fuxa, Saterno Mantone e Accademia Musicale, che non devono restare orfane e per il progetto mancherebbero circa 2 milioni di euro. Manca la terza palazzina che dovrà accogliere le altre classi, manca la palestra, manca l'aula magna, mancano ancora altre cose, però siamo sulla buona strada. Credo che la collaborazione con le istituzioni sia fondamentale, perché soltanto se si lavora in sintonia e in sinergia i risultati si possono ottenere ed è quello che noi stiamo facendo. Anna, questo sorriso vicino all'albero di Natale dice tutto. Sì, finalmente mi sento tornata a casa perché sono ritornata al Marconi dopo un lungo periodo, che sono stata in prestito in un'altra sede e ci siamo saputi adattare lo stesso, ma sicuramente ora siamo tutti contenti di essere tornati qui in una scuola più tecnologica, pulita e stupenda. Siamo tutti molto contenti.